il segreto per un ottimo pollo marinato sta negli ingredienti e nel numero di ore della marinatura fate questa ricetta con me iniziamo in un contenitore capiente metto la paprika affumicata poi la paprika dolce o piccante la curcuma il rosmarino l'aglio il pepe il sale l'olio poi spremo i limoni filtrando il succo e mescolo bene bene adesso metto la carne con le mani o con un cucchiaio mescolo accuratamente poi copro con il coperchio e metto a marinare in frigorifero per 24 ore passate 24 ore metto tutto nella frigitrice ad aria già preriscaldata e faccio cuocere per 25 minuti a 200 gradi se volete potete usare il forno a metà cottura metto la carne nel contenitore con il condimento e la bagno la rimetto a cuocere per il tempo restante e a fine cottura spengo e lascio 10 minuti nella frigitrice o nel forno in modo da far cuocere bene anche all'interno ed eccolo qua guardate che spettacolo ci stanno benissimo le patate costine di maiale alla birra ma che ve lo dico a fare fatele con me iniziamo per prima cosa passo le costine nella farina volendo questo passaggio si può saltare poi metto l'olio in un tegame aggiungo l'aglio infilzo lo spicchietto con la forchetta e faccio profumare l'olio finché lo spicchietto sarà dorato poi lo tolgo metto la carne e faccio rosolare per una decina di minuti a fiamma alta girando sui due lati una volta che si sarà fatta la crosticina su entrambi i lati metto la birra aggiungo il sale il pepe abbasso la fiamma e faccio cuocere per almeno un'ora finché la birra si sarà asciugata quasi del tutto guardate qua ora non mi resta che servire accompagnando con delle patate e mettere un po di rosmarino mamma mia questa insalata di pollo è facile fresca e tanto buona facciamola insieme per prima cosa snocciolo e spezzetto le olive di gaeta poi all'interno di uno scolapasta visto che l'ho sciacquata tagliuzzo la rucola con le forbici taglio a pezzetti i pomodori da insalata poi taglio a pezzettoni il petto di pollo prendo quello intero che tra l'altro è pure più economico metto l'olio in una padella capiente una volta caldo metto i pezzetti di pollo regolo di sale e a fiamma alta faccio cuocere per 10 minuti mescolando spesso dopodiché spengo e faccio intiepidire nel frattempo in un contenitore capiente metto la rucola poi aggiungo i pomodorini la scamorza affumicata il mais le olive mescolo bene bene aggiungo il petto di pollo che si è intiepidito l'olio extravergine un altro pizzico di sale mescolo bene poi copro e metto in frigo eccola qua ma quanto è fresca e buona mamma mia spezzatino di vitello con patate piselli ma quanto è buono fatelo con me iniziamo per prima cosa infarino la carne poi metto l'olio in un tegame e quando sarà caldo metto la carne facendo sì che tutta tocchi il fondo e la faccio rosolare per una decina di minuti a fiamma alta su entrambi i lati passati 10 minuti sfumo col vino bianco e lascio a fiamma alta per far evaporare velocemente poi una volta evaporato il vino metto gran parte del brodo vegetale bollente e faccio cuocere per circa 50 minuti passati 50 minuti metto le patate tagliate in due aggiungo altro brodo bollente e faccio cuocere per altri 30 minuti passati anche gli altri 30 minuti metto i piselli regolo di sale metto il pepe e faccio cuocere ancora 30 minuti poi spengo e vado a servire ma guardate qua bello buono e si scioglie in bocca mamma mia